Sequestro da 1.100.000 euro nei confronti di un imprenditore edile agrigentino ritenuto vicino alle cosche mafiose di Cosa Nostra. I militari della Guardia di Finanza hanno eseguito il provvedimento di sequestro disposto dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo. In base alla ricostruzione di magistrati e investigatori, l'imprenditore aveva mantenuto rapporti con persone legate ad ambienti mafiosi e grazie a queste ultime sarebbe riuscito ad effettuare investimenti di un certo genere, sproporzionati però sempre secondo la ricostruzione investigativa rispetto all'effettiva capacità reddituale dell'indagato. L'imprenditore è stato arrestato nel 2018 ed è imputato, con sentenza di condanne in primo e secondo grado, per il reato di favoreggiamento aggravato in quanto avrebbe aiutato un componente della mafia della provincia di Agrigento a eludere le indagini a suo carico. Il patrimonio sequestrato dalla Guardia di Finanza è costituito dal compendio aziendale di una ditta agrituristica di un'impresa commerciale, appezzamenti di terreno, polizie assicurative e depositi bancari per un valore complessivo stimato in circa 1.100.000 euro.